buongiorno a tutti sono tommaso canella della famiglia canella e oggi andremo a preparare una ricetta con il nostro bellini il bellini è un appetito che nasce a venezia negli anni 50 ed il nostro bellini in bottiglia che non ha zuccheri aggiunti che non ha aromi aggiunti si presta benissimo a fare delle bellissime ricette oggi sono con andrea merita ciao ciao buongiorno a tutti i titolari della gelateria via piave e andremo a creare un veloce gelato con i venditi cosa abbiamo allora abbiamo delle pesche zucchero di canna un po di succo di limone albume d'uovo e il nostro bellini adesso che abbiamo il nostro composto di pesche limone e zucchero che ronna possiamo aggiungerlo nella nostra macchina però perfetto e io intanto anche da tutti i tempi perfetto passati 5 minuti andiamo ad aggiungere il nostro bellini che sarà per altri 10 così può prendere tutta la freschezza e la dolcezza del prodotto andrea sono passati 10 minuti quindi siamo pronti a versare il nostro albume montato a neve che riflessa una po' di struttura del gelato quindi andiamo a versarlo perfetto Tommaso il gelato è pronto perfetto allora facciamo così tu fai una coppetta io faccio un calice facciamo quello che ci riesce meglio e andiamo allora ciao 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 ciao